La gioia di un attore che si parla di un film che ormai ha 21 anni, quindi oggi vediamo cinema e io il giorno dopo se mi domande che ho visto un buon ricordo, è essere ricordato in tutta Italia perché in tutta Italia mi fermano, mi aspettano fuori ai teatri, stanno venendo al teatro perché leggono Ernesto Maieli, Massavatore eccetera, Massavatore mi ha dato tanto, ha cambiato la mia vita, è inutile dirlo, io prima dell'Imbalsamatore avevo fatto cinema 6-7 film, avevo lavorato con Ettore Scola, con Giancarlo Giannini, Jack Lemmon, Macello Maltese, sì, ma il vero salto di qualità l'ho fatto con l'Imbalsamatore. Ciao! 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 Dì bellissima, quello che sei bello e stavo trovando م dobry Merola Mfried. Dove posso incontrare il signor Merola a e gli dice vieni un barbiera e non rinno, ero ma vado a capire, ma garbiera Lancasterano c'è, questa è la capicitàpse patona? Lastignonatore leiopa e abituò un barbiero e non mi è stato sottato ma è stato giustousì, E io passai da dietro a lui e lui mi vide attraverso lo specchio, buongiorno, amico, ma questo è tutto? No, se ti la dico i metri e te in casa, allora non mi roffi che tocco, lui è stato con lui, mi chiamava subito, mi etichettò, e così ho fatto cinque anni con lui. Anche cinema ovviamente, poi. Tre film e teatro, tre film e teatro. Ho fatto il giuramento, torna e guapparia con lui e poi cinque anni di teatro, sceneggiata, molto bella, mi piaceva il periodo. Siamo stati in America con lui, tanta roba insomma. Vabbè, lui era una persona eccezionale, e che se ne dica. Ecco, la vita, dicono che bisogna trovarsi al momento giusto, al posto giusto, no? So d'accordo. Andiamo a vedere. No, io so d'accordo. Perché io stavo a casa mia tranquillamente in una serena serata di 22 anni fa, quando mi arriva stata telefonata verso le 10 di sera, ed era proprio quel ragazzo che mi sono andato insieme a un altro, due amici miei, insomma, che lavoravano all'epoca a Roma, facevano teatro a Roma, e mi chiama questo, e mi dice, Ernesto, senti, noi siamo a tavola con un regista cinematografico, che ti avrebbe scelto tutto così, tutto, ti avrebbe scelto come attore del suo prossimo film, come protagonista. Posso dire una parolaccia, siamo a tutti, ma quanta finisci vostro, perché io pensavo che fosse uno scherzo. Dice, no, io più mi arrabbiavo, e lui più, no, Ernesto, è vero, ti passo il regista. Ciao, Ernesto, sono Matteo Garrone, eh, e sono che Ernesto vedi, dimmi, mi non so, perché poi, ma se non era conosciuto. E comunque mi passò lui e disse, senti, Ernesto, dalla descrizione che mi fanno i tuoi amici, tu sei proprio tu, sei il protagonista del mio prossimo film, avrei ricettito. Questa avveniva di giovedì, venerdì, il lunedì mattina, una bussata di porta, apro la porta, sono Matteo Garrone, col copione. Hanno ragione i tuoi amici, tu sei tu, il protagonista del film, avrei ricettito. Io devo leggere, lo feci fare il caffè da mia moglie, ed era, lei sì, copione, ma non se ne parla proprio. E lui mi chiamava, che dici, se ti chiamo domani pomeriggio ce la fai, l'hai letto, se ti va di sonno lavorando in teatro, non lo so. Io l'avevo letto, ma era uno schifo orribile, e facevo vicino a mia figlia, non ci sono, non ci sono. Insomma, per non portare la lunga, è durata sta cosa per un paio di mesi. Lui chiamava, io, un bel giorno, mio figlio più grande, una cosa gravissima, disse, papà, c'è Matteo Garrone a telefono, fai l'uomo. Quando un figlio ti dice, fai l'uomo, è tremendo fatto. E allora io feci l'uomo, e dissi, Matteo, a me il film non piace, non lo voglio fare. Ho 56 anni, ho una piccola carriera di teatro da difendere, ho fatto pure 5-6 film con delle ottime firme, quindi non posso macchiare la mia carriera così. Voglio lasciare un bel ricordo ai miei figli, perché non lascio il capitale, ma almeno lascio un cognome. E lui disse, ma no, ma non esiste, guarda, vieni a Roma, facciamo, diciamo. Andai a Roma, fece dei tagli, vabbè, un contentino del cavolo, perché non tagliò nulla. Allora, arrivammo, io avevo ancora il coltello dalla parte del manico, dice, allora Ernesto, parliamo di soldi. Ditemi che, no, 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 dici che, facci tu una proposta, di che voglio 100 milioni. Direi che lì, non stiamo parlando. Oh, ma per carità, siamo lontanissimi, ma non è proprio la cifra che ne avevamo pensato. Ma tu hai capito, noi ti stiamo offrendo un protagonista. Bravo, dicetti. Mi state? Offrendo un protagonista. Io faccio il cadrino, è stato un piacere, lì, dice. Pagai pure il caffè, me ne ho detto. E me ne ho detto. E non arrivai neanche vicino alla macchina, Matteo mi chiamò. Dice, guarda, Ernesto, è inutile che fai, se non te li do la Fandango, te li do io, ma tu il film lo fai. E tu stai chiesti, se ti. Insomma, alla fine il compromesso comunque c'è stato, mi sono ammorbidito, i 100 milioni mi li diedero l'ordi, io li volevo netti. Insomma, questo è stato l'accordo. Matteo nasce pittore. Ah, non lo sapevo. Lui ha fatto dei quadri, lui è pittore, quindi lui usa la macchina da presa, quasi come un pennello. Ah, vedi, vedi, questo non... Lui è bravissimo, lui gira con la macchina. Lo so, lo so, sì. Matteo diventa l'altro protagonista del film, capisci? E non sai mai dove stava, te lo trovavi qua, te lo trovavi lato, capito? Pensa che il direttore della fotografia, che è morto purtroppo, che poi era il suo patrigno, lo sapevo ormai come girava Matteo, quindi Matteo diceva qua è il 7, però Matteo si andava laggiù, capito? Allora questo Marco aveva imparato, ci faceva il luce per tutto il percorso, quando era lunga la strada, stando in là, va a finire, capito? Per cui, eh, Marco Onorato, ho fatto con lui un refortapasce, è un altro film pure, chiamami Salome pure, con la fotografia di Marco Onorato che era un signore nato. Il vero, in base a natura, era Domenico Semeraro, che era un professore universitario di chimica, alto così, perché io poi ho visitato i luoghi che lui lo chiamavano il nano di stazione Termini, quando Matteo mi ha portato nei luoghi dove lui ha frequentato le università, le cose, e diceva tutti, ma tu sei alto, io ero alto, ti chiedi questo che è, e questo qua però era affiliato con la camorra, tagliava, essendo chimico, tagliava le droghe per la camorra, e poi aveva il vizietto, insomma, che la sera andava a stazione Termini, prendeva questi ragazzi drogati che dormivano a terra, stici palestrati, se li portava a casa, gli dava da mangiare, gli dava i soldi e faceva sesso con loro, naturalmente, e con uno di questi poi nacque l'idillio, si innamorò, terribilmente. Il ragazzo l'ha sfruttato finché, poi il ragazzo era fidanzato, la cosa incominciava a dare fastidio, questo menaggio era tre, e una bella sera a seguito di una lite è successo il morto, insomma, il ragazzo l'ha ucciso, insomma, e lo buttarono nei rifiuti della spazzatura. L'ho girato un film in Puglia, e all'improvviso è venuta una pattuglia della polizia, il signor maio, il signor maio, mi sono spaventato, pensavo a una disgrazia dei miei figli, viene questa poliziotta femmina, bella donna, il signor maio, posso stringerle la mano? Dico, basta che non mi metto la manetta no, no, io sono la nipote di Domenico Semeraro, la voglio ringraziare per come lei ha nobilitato il mio Dio nel film, pensa a te, che ero sto Domenico Semeraro, io nel film l'ho nobilitato, lei l'ha fatto uscire un signore, pensa che ero sto Domenico Semeraro, è capitata una cosa assurda, in un ristorante a Roma, sono entrato dopo uno spettacolo che stavo con la compagnia a Roma, sono entrato in questo ristorante, poi era abituato, andavo sempre a mangiare lì, e una signora appena mi vede ad entrare, chiama il cameriere, cameriere, ma quello, è lì, basta maturre, e il cameriere dice, scusate siete lì, basta maturre, cacciatelo fuori, questo essere abominevole, questo schicco di persona, mamma facetto, i compagni mi napoletano la volevo dare ancora, no, no, ti voglio, signora grazie, lei mi sta gratificando, in questo momento lei mi sta dando l'Oscar, lo sa signora, io avevo un contratto di otto settimane più due, cioè, era proprio al contratto, che Matteo, girammo le otto settimane, le montava, se non era contento, ritornava sul sette, lui lo fa sempre, tutti i film di Matteo quest'anno, dopo si ritorna sempre sul sette, abbiamo ripreso le riprese per quindici giorni, da quei quindici giorni lui ha montato il quaranta per cento del film, potrebbe montarne altri tre quattro, che abbiamo girato tantissimo ragazzi, proprio tantissimo, che però è tutto cose che poi lui ha tagliato, ha tolto di mezzo, perché erano scene assurde, scene di sesso a tre, di droga, tanta roba che io l'ho girata, per carità, perché poi mi ero impegnato a farlo, ma lui stesso ha capito che era troppa roba, già così il film era vietato ai minori di quattordici anni. Ho avuto una pizza così, vedi, di 120 metri, che me l'ha regalata proprio la produzione, c'è Ernesto, questo l'avevamo comprato, poi qui tu sei stato, sei andato, abbiamo finito il film prima del tempo che avevamo previsto, me l'hanno regalata, una bombita così vergine, e beh siamo stati a Cannes, abbiamo avuto dieci minuti di applausi a Cannes, penso che io non avevo visto un, niente, un'inquadratura, niente, un fotogramma, non l'avevo visto. Non ce la facci per rivederlo? No, io quando giro i film non voglio mai, i registi mi chiamano, vieni a vedere Ernesto, che tu me lo vedi subito sul digitale, vedi subito, no? Certo. Non voglio vedere nulla perché il film non è mio, io sono un attore, il film è del regista, quello che piace a me non piace a lui e viceversa. E allora di che parliamo? Perché mi piace rispettare i ruoli, la cosa stupenda, credetemi, è stata che io ho visto il film che avrei montato io, cioè era il film che io avrei voluto fare, quindi ecco qui è la mia grande stima di Matteo, però poi alla fine ha notato il film che doveva nascere. Grazie a tutti. Grazie a tutti.